Ho solo frammenti di ricordi, ma so di aver condotto qui questi guerrieri per difendere la nostra realtà. Lì, nei cieli di questa strana terra, ci prepareremo a porci a lui. Galactus, il divoratore di mondi. Dobbiamo riuscire a ricordarci chi siamo. Storr, Iron Man, Mistake, Dr. Doom. She-Hulk, Wolverine. E... io sono Groot? Senza dubbio. La nostra più grande battaglia comincia qui, adesso. Esploreremo questa terra, riotterremo i poteri e ci riprenderemo i nostri ricordi. Seguici. Uniti. Sconfiggeremo Galactus e salveremo l'intera realtà. E buonasera e buonasera a tutti ragazzi. Buonasera e ciao e benvenuti alla live serale dedicata a Fortnite. Ma prima, devo prendere la password. La password. Ok, ho già un commento, ora leggo subito. Visualizza i messaggi per gli spedatori. Ciao, Snake's Way. Ciao, Snake's Way. Benvenuto. Allora, un attimo che mi serve. Eccola qui. L'avevo quasi azzeccata. Ok, ci siamo. Oggi proverò a vincere su Fortnite. Visto che su Fortnite non ho possibilità, qui sicuramente possibilità ne ho. E quindi, io parto. In solo. In solo direi. E vediamo un po' come va. Ecco fatto. Ecco fatto. Vediamo, visto il nuovo season. Oh, due commenti. Perché non è apparso il commento? Aspetta un attimo. Perché non appaiono qua sul telefono. Se vuoi vincere a terra al Queen Jet. Dato che su Fall Guys si bestemmia, si va su Fortnite. Sci... 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 scierare di oiono. Ehm... Io... Allora, io sono sicuro che qui sono... Sono potente. Diciamo che qua io me la posso cavare benissimo. Non ho problemi. Già mi sento proprio a mio agio con questi comandi. Penso che qua dominerò. Sicuramente sulle... 20 kill. Ciao, gold... Gold live 10. Buonasera. Eh, cosa sono sti chat? Gold live 10. Buonasera. Buonasera. Allora, io qua tutto... Non so dove andare. Comunque penso che andrà bene. Io direi di buttarmi... Qua. Ti andrebbe di fare una mia mappa. Cosa vuol dire una tua mappa? Una tua mappa? Molto creepy. Io non mi spavento molto facilmente. Io non sono uno che si spaventa molto facilmente. Te lo dico. Allora, vediamo un po'. Amico... Amico o nemico? Oh, madonna. Assurdo. Ti va? Eh... Va bene. Eh va bene, va bene. Fammela provare pure. Però qua c'è un problema. Mettimo solo. Eh, eccolo qua. Quando finisci ti mando il codice. Va bene. Già è meno lento. Mi hanno toccato la sensibilità comunque. Mi hanno toccato la sensibilità. Sembra che sto... Sto giocando con un macinio. Questa non è la mia sensibilità. Oh mio Dio. Mi sento tipo una pietra. Mi sento una pietra. Ah, non è la mia sensibilità. Bate qua. Gostè. Uh... Quanto è questa? Eccolo qua. Ok. Vai. prendiamo questo io comunque sono un hub prendiamo questo io sono un hub comunque non sono potente cioè no cioè no cioè non lo so comunque ti ho visto anche su tiktok mai visto su tiktok? ne hai visto su tiktok? ho caricato delle clip si si ho caricato delle clip su tiktok di fall guys degli scleri delle bestemmie nice vabbè una è fatta oh guardate cosa c'è là cos'è? purtroppo mi hanno toccato la sensibilità no comunque ah da fuoco alle cose bella e là c'è un lama che culo molto bene nel me tiktok è una bella app di merda eh vabbè io l'ho messa solo per pubblicità ci avrei anche altre clip su questo non è ci sono anche altre clip beh comunque se mi hai seguito dalle a servita o qualcosa beh tiktok tiktok diciamo che lo guardo lo guardo lo guardo per ridere si si vabbè del resto tutto è così se no è una merda e beh se non facesse ridere cos'altro ci sarebbe oddio tutto il pesce cioè se non facesse ridere comunque non sarebbe nulla tiktok non sarebbe assolutamente nulla diventerebbe un mortone come ci saremmo certo certo sarebbe solo lui che dice certo certo triste con il tostapane certo certo c'è solo lui c'è solo lui peccato che non gioco se no ti aiutavo a fare la win eh vabbè non ti preoccupare proverò a farla solo oddio nice era da un po' che non giocavo hanno messo un sacco di cose hanno messo un sacco di cose peccato che non mi hanno toccato la sensibilità che se no mia madre investe in mia conta ah si porca Eva devo rimettere la mia sensibilità peccato peccato adesso metto un attimo la mia sensibilità allora faccio così quello lì è il codice bello tinghi grazie mille allora cioè mi serve pure il download del contenuto ciao io vado ciao snakesway alla prossima aspetta un attimo sensibilità eccolo qua metti gli effetti sonori al massimo e l'umidosità all'80% eh eh ok non capisco questa cosa che mi deve caricare però vabbè però vabbè un attimo solo prima di entrare metto due secondi la mia sensibilità e poi abbasso la luminosità allora ok adesso aspetta un attimo questo per due questo per due questo no no ho sbagliato allora dove sono ce ne avanzate velocità 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 verticale velocità verticale 44% un attimo ecco così vi dico anche la mia sensibilità quella vera 0 0 0 0 no questo 11 questo 11 questo 0 questo 0 questo 0 questo 0 questo lineare e e questo questo è sempre uguale e poi vabbè qua allora vabbè lasciamo stare ora andiamo vediamo la tua mappa metti gli effetti sonori al massimo ah giusto aspetta un attimo e poi qua mettiamo tutto al massimo e poi hai detto la luminosità all'80% luminosità 80% proviamo questa mappa qua proviamo questa mappa qui che dici perché se io avessi un telo sarebbe tipo un green screen allora ma come perché perché ancora è lenta ma 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 1% spero c'è qualcosa che non va ma perché ma che cavolo vabbè 0 7 7 no 0 7 9 6 8 4 89 0 5 0 8 ok vabbè però devo capire il pin del banco mat si la cambuda di mako è il pin del banco mat aspetta no ma scusa costruzione turbo non sta il pericolo non sta il pericolo inverti i comandi di volto qua per cercare ma perché è così lento si ma non trattarmi così male buonasera la cambuda di mako benvenuto aspetta un attimo sensibilità ma io non capisco cosa è qua user si mi ha detto no 0 0 ma perché è così lento questa azienda ma mi sembra un po' dura nei confronti dei clienti ma no povera azienda no non è dura non è dura questa mappa vediamo se fa paura però mettiamo senza questo ridicolo dettaglio aspetta qua qua è sembra una pietra a questo punto ripristina ripristina ah no ho sbagliato scusa qui 80% ok oh guarda già è più fluido che devo fare la mia partita um devi vedere come spari no aspetta prima devo provare questa cosa qua bloccato perché l'hai fatta l'hai fatta in cinese ma qui sono bloccato che devo fare ma che roba è sono in prima persona ma che cos'è ah ecco bloccato e dove devo andare tutto bloccato esco esco devi aspettare due secondi oh si è aperta una porta qua cosa c'è che non posso passare ma che succede poi c'è una sciocca che sta cantando ah ok devo andare di qua bloccato qua sembra tutto a posto cos'è Silent Hill dei poveri non lo so dei poveri il telefono che telefono una mappa strana qui non posso andare qui è bloccato 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 che devo fare pronto sopra e che devo fare con questo telefono ah ecco ti ricordi vero che sono venivo con Porco Mannaro si lo so lo so e ora ma è ora è ora siamo sostenitori di tutti e tre i rapali grandissimi ma è ora che cosa faccio ma ma che ma che sono sti rumori a casa rigenerati non mi sembra così paulosa sta mappa comunque non mi sembra molto paulosa se solo all'inizio ma non è tanto pauloso non capiscono molto però non ci sta dai mai giudicare un libro dalla copertina certo certo dico solo che un'apparenza un'apparenza giusto giusto divertente come uno specchio sulla barbara d'urso si appunto infatti è un po' pallosa io vorrei andare a sparare ai nemici vabbè un cesso ma sarebbero questi dei bulbi oculari vai a sparare cristo dio infatti io voglio andare a sparare si capisce una vattuga basta io vado a sparare vado a sparare basta vado a sparare grazie mille di tutto la mappa era molto interessante molto bella però io voglio di uccidere cioè nel senso io voglio andare a sparare ai nemici voglio farli fuori e quindi grazie per l'offerta l'ho provata vabbè lasciamo stare vabbè non ti preoccupare non ti preoccupare grazie allo stesso per avermi la fatta provare anche se qua comunque non capisco ora vediamo che performance assolutamente non mi ritengo forte ma il mio obiettivo è solo uno quello di riuscire a vincere la cambusa di Mako questo è il mio unico obiettivo vincere e e vincere non è poi il mio obiettivo è vincere semplicemente è vincere vincere e vincerò sicuramente però prima vabbè no chi se ne peve ok o hanno rimesso questa mitraglietta bellissima guarda che soddisfazione che soddisfazione nel premere il grilletto di questa cosa fortnite lo uso lo uso in farmacia come sinonimo del gutalax no è sottovalutato i pesci mi butto direi di andare in una in un posto borghese guarda che bella sta scia che ho sbloccato prima è bellissima vado in un posto borghese ora questo posto di ricconi qua ci vanno tutti i ricconi la gente ricca le persone benestanti quindi io dovrei andare in una discarca però andrò lo stesso in questa città di ricchi milanesi in questa città di ricchi milanesi che tra l'altro la conoscevo benissimo ecco adesso subito uccidiamo questo se no poi prende le armi e diventa potente sento la play decollare son povero la play fa schifo vabbè dai non vale non vale non vale non vale non vale dai non vale non vale wow si ma non vale ma non vale cioè ma non vale scusa così non wow dai c'è c'è a parte della play come dici te sta decollando non è giusto anche a me questo rumore di sottofondo distrae molto distrae molto ma io non ho la mia sensibilità è inutile io non c'ho non ho la mia sensibilità è logico che perdo perché io non ho la mia sensibilità ma la pulisci da poverla dentro no dentro non la pulisco dentro no dentro non la pulisco la pulisco solo fuori qua c'è pure un missile ma che cosa è lo shield ma che versione hai della play normale base o la play base o la play base allora so che ci sono dei poteri ci sono dei poteri se io vado là quindi il mio scopo adesso è quello di trovare i poteri e di diventare invincibile perché con i poteri divento invincibile e di conseguenza riuscirò a vincere pur lì la non serve una ceppa di miglia ho capito e ora che posso fare io comunque non ho la mia sensibilità ho una sensibilità troppo pesante allora togli la scocca lucida e con dell'aria compressa le spari ai lati dove hai aperto no non penso se ove si spacca così faccio prima a comprarne a chiederne una nuova le chiedo una pro per il compleanno a sto punto o per natale ok io però vedi qua c'è una cosa che mi fa diventare che mi fa impazzire perché io sono lento allora scusa un attimo metti sto coso al zero se lo metto a zero com'è è un po' più fluido ho 82 anni e ne ho fatta migliaia di montazioni di play fidati hai eh ok sensibilità mirino questa cosa è nuova scusa un attimo 2x 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 oh mio dio conferma pensavi fossi un ragazzo un ragazzetto eh sì lo pensavo qua però non capisco la città orizzontale visuale 44% io non capisco io non capisco 44% 0 0 0 è dura è un gioco un gioco duro un gioco duro un gioco duro un attimo poi un attimo che ti leggo 0 0 0 un attimo che leggo 0 lineare un attimo solo applica oh ci siamo ok no ho chiuso la mia live per sbaglio e invece no mi spiace porco mannaro è anche più grande eh vabbè a me non a me non mi interessa un follower è un follower oh guarda com'è fluido così si fa adesso adesso sì adesso sì fluidissimo oh è fluidissimo adesso un follower un follower un iscritto un iscritto un like un bye ok è un cecchino un cecchino oh che bello un cecchino finalmente lo so che nei privati ci prendevi in giro e ci sfottevi lo so lo so cosa vuol dire io avevo io ho scoperto di recente in dei video che ho fatto un video con quei tablet dove ho fatto la reazione quando ero all'elementare avevo un tablet che è era un tablet lezzo era un tablet lezzo e una volta l'ho portato a una festa di classe e un mio è un mio compagno di classe di elementari mi ha detto l'ho inquadrato io ho detto fai le corna e lui mi ha detto mi ha fatto il dito medio e mi ha detto non è neanche della Apple ma io ho detto ma stai zitto non è neanche della Apple ma come si permette non è neanche della Apple perché la Apple è la marca sacra e non ho parole vabbè comunque sono qua per vincere devo vincere su questo gioco già ce la posso fare senza problemi io ho due iPhone da 1450 euro l'uno è impossibile ma scusa se hai tutti sti soldi perché non li condividi vanno bene la madonna perché non li condividi ci sono limited edition che si condividere questi soldi che ha con uno streamer che stai guardando easy money dai ho perso un attimo la lattuga la lascio qua adesso provo a scappare ok è meglio che fuggi magari stai mentendo e sei come me sei magari sei un poraccio come me che io non ho soldi sei un poraccio come me e non hai neanche 32 anni forse stai guardando sta diretta da un pc da gaming perché quello lo hanno tutti oh livello 3 bene ok dai 27 rimasti secondo me questa è una partita buona poi appena vinco va bene così va bene così se tu fossi furbo avendo detto che ho 32 anni dovresti immaginare che ho la testa per non prendere degli iphone del cazzo quindi ah no hai 32 anni ma scusa 32 anni cosa vuol dire hai finito l'università scuba cazzo ok vuol dire che hai finito l'università se l'hai fatto sì che ne ho 32 ma cosa vuol dire cioè hai 32 anni e quindi cosa succede a 32 anni cosa sblocchi oddio c'è un'auto che non sono un ragazzetto viziato ma un'auto marcia ma qua cioè ma e nemmeno io sono un ragazzetto viziato perché non posso essere viziato sblocco il trofeo e che trofeo e che trofeo sblocchi scusa come muori male guardatelo non muoio male guardalo non muoio male guarda questa partita secondo me è vinta secondo me nella mia modesta opinione questa partita è vinta ufficialmente easy oh come ma dove cazzo è sbocato ma porco tu non bestemmio neanche perché proprio non mi viene ma da dove è sbocato questo imbecille ma da dove è sbocato questo imbecille ma da dove è sbocato non ho parole abbiamo tutti e due io e porco mannaro canali su twitch vedi che non siamo coglioni come credi fammi vedere e poi io non ho mai detto questo ah ma questa che stai spammando ma è la tua emoji e la madonna ma quanti giochi porti ovviamente si si tu ci hai detto dei coglioni ma non l'ho mai detto ma che stai dicendo ma che stai dicendo to ti lascio anche il follow ma che stai dicendo abbiamo canali piccoli eh vabbè nel senso il mio canale è un canale aziendale ok il mio canale aziendale io sono solo uno che cerca di espandere l'associazione di Rapallo che è il mio canale aziendale tuttavia voi avete canali vostri ma il mio è un canale aziendale ha fidato l'ho detto io l'azienda me l'ha dato come espansione per i contenuti che insomma all'interno si portano io sono solo uno che espande i propri contenuti è una cosa libera è una cosa libera se chiedono attrezzature possono darmele e porco mannaro ti faceva mille clip ma io non ho scusa quando ho detto questa cosa non l'ho mai detta comunque ti stiamo supportando indirettamente ma io non ho capito quando ho detto questa cosa qui io non ho mai insultato nessuno dei quelli sì vabbè ok io non ho mai detto su di voi questa cosa qua non l'ho mai detta da mai non l'ho mai detta questa cosa qui di cui che dici te non l'ho mai detta si mi avevi cacciato in malo modo ma ma quando è che ti ho cacciato in malo modo hai fatto mi hai detto mi avrei detto qualcosa ma mi avrei detto qualcosa scusa mi avrei detto un insulto grave a mia madre per forza che io a caso non insulto io a caso non insulto mai ma scherzo se va non insulto mai nessuno ma scherzo va va come si agita non insulto mai nessuno in chat io non insulto io non insulto mai nessuno in chat comunque non ho armi questo è il vero oro questo è utile e questo anche secondo me si va secondo me si va secondo me si va secondo me si va secondo me ora si va si dice oh colazione ciao fede trova benvenuto benvenuto nel mio canale se vuoi lascia un fold oh qui c'è il tizio allora lui sulle scale potrebbe avere lo scudo non ha lo scudo ho tirato un po' un po' di pompa o no ce ne sono due aiuto secondo voi ce la faccio ok la cambusa di maku va benissimo ma non è possibile ma non è possibile ma non è possibile certo la cambusa di maku ti dico la verità io e porco io ho letto comunque questo messaggio e troviamo sia idioti che si messi in pace e li portiamo nei nostri discord e nel nostro gruppo e vabbè dai portami portami nel tuo gruppo vabbè scrivere idioti e io cosa sono non streamer idiota ovviamente o o no idiota severo ma severo 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 ma severo bene effettivamente vado a fare colazione vai buona buona colazione allora che le trova io non ho parole a ogni fight sto perdendo ma è una cosa assurda una cosa assurda una cosa assurda è qua assurda oh aiuto vabbè è assurdo assurdo streami da play si che le trova io faccio le dirette dalla playstation la playstation allora ecco mi è arrivato il link mi è arrivato il link adesso ci entro un attimo solo accetta l'invito easy entrato ora la campero ecco fatto ecco fatto sono entrato sono entrato bobo io campero adesso voglio vincere sinceramente io adesso farò qualsiasi cosa io devo vincere su questo gioco almeno su questo il primo è il mio quello di sotto è quello di porco ah ho capito ah vabbè entro anche da lui un attimo solo ecco accettato l'invito un attimo solo 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 ma che cazzo sono i dati c'è vocale porco oddio il primo è il mio quello di sotto è quello di porco scusate della bestemmia goliardica mi dissocio dalla bestemmia goliardica comunque ce l'ho fatta prima kill prima kill fatta prima kill fatta molto bene no da vera volta vabbè abbiamo fatto quattro partite tutte perse ma questa volta me la sento buona questa volta me la sento buona comunque no stavolta si stavolta si dai stavolta me la sento buona aspetta ok 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 un attimo solo questa cos'è cos'è questa allora è tipo una canada pesca con la banana bello cosa pesco le banane con queste pesco le banane vabbè vabbè ok andiamo la pistola secondo me questa così si va bene eccolo qua qua c'è un tizio no no cavolo cazzo merda dai si e vai e vai e vai e vai e vai così e lezco e ce l'ho fatta easy easy win molto bene molto bene molto bene molto bene molto bene hai ucciso qualcuno me lo sono perso niente si ho ucciso una persona ce l'ho fatta comunque mi sa che è meglio questo pompa si si ho ucciso due persone in realtà ma stavolta questa kill è stata veramente combattuta ammazzare un'altra per me allora ok va bene ci proverò la cambusa di moto ci proverò questa è potente questa è bella potente questa è bella potente come arma chiamagli semplicemente maku ok maku cos'è la cambusa dopo tutto si ah no non è l'assalto col mirino ci speravo non sai che cos'è una cambusa è un è uno strumento musicale forse è uno strumento musicale se forse forse è uno strumento tipo una vai di google va si ok dopo ci vado dopo sta partita ci vado chissà cosa pesca sto coso del legno bello il legno ok eh vabbè foresta frignante ok bel nome per dare una foresta frignante frignante oh qua c'è un altro ah qua ce la devo fare cazzo cazzo mi sa che ha guerrito cazzo si vabbè si vabbè ma allo scudo non vale lui allo scudo io no arbitro e vai e vai questa kill è dedicata a maku e vai l'ho ucciso e ora mi approprirò di tutto il suo loot e pure della revolver oh e questo good grazie mille e vai mi serve solo lo scudo adesso mi serve solo lo scudo e poi sarei anche a posto veramente good questa è un'ottima partita un risulto scudo dove lo trovo senza scudo non si va avanti dai che bello però se fosse in te giocherei a full guys si si lo so no ma oggi era perché era perché volevo un po' vedere com'era stasiso era un po' curioso oggi ero curioso forse mi sta un po' sì però io ero curioso lo so lo so ero un po' curioso c'erano cose nuove hanno aggiunto delle cose belle che a me piacciono comunque ho qua porto varietà di contenuti posso guidare le altre manopola su radio oh mio dio no 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 ma questo raggiungendo il carburante no no oh no no come si fa? come si fa a dare la benzina? ma che cavolo sto buttando a caso come si fa? come si fa? come si fa? ma che cavolo sto facendo oggi? ciao nebio si oggi fortnite bella nebio porco due mi esplosa l'auto ahhh ahhh porco dio porco dio porco dio porco dio era una bella partita questa ehm cazzo no però cazzo cazzo questa era una bella partita miseria ladola cazzo era una bella partita eh vabbè cazzo prepariamoci cazzo non è possibile questa era una bellissima partita ho occupato delle delle tattiche assurde combattuto un sacco vengo sfottuto in malo modo da questo qua non ho parole non ho parole semplicemente dico che non ho parole perchè è veramente assurdo la cabuta di macu eh vuol dire macu macu eh gg eh gg macu eh devo dire non gg eh vabbè eh vabbè pazienza pazienza streamer idioti o simpatici no aspetta è com'era che avevi detto ti dirò la verità sia idioti che simpatici devo dire sia idioti che simpatici ecco e quindi allora io vi do dei consigli su chi andare a trovare a parte dove li trovate in just chatting in fortnite dove li trovate te di che leva sei militare no della leva militare io della leva militare ah boh non so più dove andare alla fine ma ho ucciso perché ho usato l'auto ma che cazzo stai a dire tu mi hai detto di che leva sei cosa vuol dire di che leva sei di che anno sei ah di che anno sono 2003 2003 io sono 103 ehm come si dice sono vol no non volontario leva uguale anno ah beh scuola scuola c'è anche leva militare scuola sono di sono eh stage faccio lo stage tipo ecco faccio lo stage questo qua è anche da azienda faccio lo stage faccio lo stage ecco in questo canale faccio lo stage posso dire quello che voglio basta che ti avrei dato minimo vent'anni eh vabbè eh vabbè magari qualcuno ci casca oh cavolo porca miseria ah ti ho dato fuoco dai che palle basta faccio eh vabbè eh vabbè eh vabbè oh madonna ok nuova tattica nuova tattica nuova tattica nuova tattica campero campero questa è la mia nuova tattica campero adesso campero tutto il tempo questa è la mia nuova tattica per vincere però prima vado a prendere un attimo qualcosa da mangiare è che ecco il mio momento di piacere un ramo de culo duro me manterai al infinito un ramo 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 è giusto che ne mettono solo 4 per pacchetto non ve lo mettere molti di più ok 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 guardano qui i miei oreo e fame e il puto è rimasto se la vinci faccio salire easy di rango su discord ok accetto 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 però come faccio altrimenti ti sbatto fuori accetto accetto ok quindi se perdo mi sbatti fuori bello cazzo dalla porta in malo modo no perché mi ha fatto sta cosa dai che mori dai che muori e vai e vai ce l'ho fatta l'ho ucciso finalmente grazie mille finalmente l'ho ucciso però il suo loot il resto del suo loot dove è andato no dove è andato c'è guarda delle altre cose e no mi fa solo questo oh gente neanche un medikit vabbè ma contento e me ne vado mamma mia mamma mia grazie mille grazie mille adesso andiamo è molto difficile forno non era così diventato più difficile la scorsa season era molto più semplice diventato più complicato vuole uscire al salto col mirino, perfetto, il mirino potenzia tutto, più preciso, ecco molto più preciso, ok, allora si fa, si va, si va, 3 ci rimasti eh, non sono mai andato così lontano, eh, in questa live, te ci rimasti eh, un ottimo risultato, è un ottimo risultato, ci sembrano solo materiali, uh, che culo, che culo, scura 50, perfetto, ok, ok dai, ok dai, ok dai, ok dai, qui si fa, qui si va però, adesso l'ho messo bene con tutto, tutto carico, tutto al massimo, eh, solo i materiali ne ho pochi, questo è vero, ho pochi materiali. Porco di, porco di, porco di, porco di, porco di, porco di no, vaffanculo, ma si può, figlio di puttana, mamis, babies, no, ma, ma vai a cagare, ma si può, ma si può. Ultima, 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 ma si può, ma si può, peccato, veramente, cioè ma si può, ma si può, apro la porta ora, oh no, eh, vabbè, peccato, 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 sbattuto fuori, oh, madonna, dai, ti tengo, va là, eh, vabbè, fai come, fai come vuoi, fai come vuoi, ma niente aumento di rango, vabbè, questo mi sembra giusto, questo mi sembra giusto, ma in effetti, scusa però qui, cioè, una cecchinata così non è sconfitta, scusa, ma arriva, ma arriva, ma arriva, ma arriva una cecchinata così, scusa, scusa, non ho neanche avuto modo di difendermi, neanche avuto il tempo di fare un muro, sei morto male, stop, eh sì, veramente, morto malissimo, veramente male, vabbè, allora, mi butto adesso dominiamo, andiamo a poter andare a prendere quel jet effettivamente, è una buona idea, perché se con quel jet, no, quel jet non posso prenderlo, mi sa che non posso prendere quel jet, però loro hanno le armi laser, allora mi fermo, devo prendere quell'arma laser che hanno loro, cazzarola, vabbè, mi fermo in questa discarica, in questa discarica e c'era il giorno, ok, 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 vai dai a terra mamma mia mamma mia nooo 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 ma perché ci sono gli scudini lì, ma non è possibile, va sempre così ogni volta mamma mia ok ok basta, me ne vado, basta, 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 ok, ci riprovo magari in duo, perché magari con un compagno è più facile vincere, poi basta, poi basta, poi basta, 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 bello, bello come anduo Ok. 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 Can you hear me? Can you hear me? Ok. Ok. Let's land in this. Ok. 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 Difficile. Si fa difficile la situazione. Ok. 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 Come vittoria hai? o uno scudo per te c'è sceg di sì sì io ancora zero qua in totale non lo so cosa vuol dire tarun cosa vuol dire tarun non lo so non è italiano ma non è pensavo è una parola in dialetto vabbè vabbè no tarun no comunque tieni taron taron è così cosa vuol dire o sa che c'è gente ed è morto si è suicidato da un albero io ho 16 te quant'anni hai ok 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 un po' ok 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 aspetta adesso lo trolliamo lo trollo con questo lo trollo con questo ok andiamo qua prendere le moto si 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 sii si 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 no ma te lo sei shoppare qua sbattaglia no no io non shopp ma una volta lo posso fare c'era tutta sbattaglia ti dini 950 e me non c'ho soldi quanto costa 10 euro ci penserò e te quanto shoppi su questo gioco dalla prima stagione giusto capito ah ok non c'ho sentito infatti è delle schifo beh però quelle della marvel sono belle l'ho vista sono belle si no 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 guarda meglio lasciar stare e hanno cecchinato malissimo la partita l'unica andata bene tutta storia che quando ti fanno led shot e non è che puoi controbattere perché muori subito eccoli eccoli ecco eccolo qua da poco ok è atterrato si 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 prendendo fuoco è rimasto uno oddio ma questo c'era un potere cosa da da dove c'è il tuo ultimo no 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 stavo scherzando se lo fai se lo frutti eh no non ho vita meglio di no come no e spara gli spari lì con il m3 spara lì con il m3 ok ok non c'è l'invito che cosa non c'è niente a bb cos'è starmo qua boh vediamo che abbiamo lo sottotitoli si 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 via anzi vengo io ma dove li trovano sti poteri dove si trovano i poteri ai poteri tipo questo qua che voli ok vieni dentro casa vuole bene questo tieni grazie tieni arrivo no ma che è quella cosa cosa questa ma ce n'è un altro di potere no no solo uno ah per cosa sono uno non so quanti fa volare basta si quello forte di quello che l'ho fatto così ho gente gente da me venire va davanti si non ci ha visto non ci ha visto aspetta quando c'è la buona ma qualcuno è una coltetta c'è una che mi sta massacrando o cazzo ok c'è un altro team è diventato questo mi ha fatto cadere 50 100 e ho 20 di vita provo a venire uguale no no aspetta aspetta scappa scappa scappo assoluto per volare chiedete lo lascio qua spettacolo volare è con r2 aiutato molto vabbè te lo dice per forza comunque quello per sparare uso mouse attento che c'è il quello si quindi qua c'è un po' più per entrare veramente vabbè qua ci sarà per forza del bene ho trovato poco da me arrivi oh cazzo qua arrivano ben bene metti 15 sì proviamo a trovare qualcosa da preferire sì sì ma a me mi serve una rosa non mi mi vuole c'è il fama tieni ma tanto io c'ho già un ce n'hai già uno che ho oro cioè c'ho questo c'ho questa cosa strana viola si qua mi sa già l'ho tuttato tutto si e... oi e bine patente o sa mai... a me lasero ora beh, apro da ben, neri ok dai l'ala ok ok dobbiamo andare in sese sì sì a livello come stai messo? 59 legna, 249 mattoni, 378 ferro oh sei rimasti la vittoria la vinciamo a tornare sì 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 va bene anche se non la vinciamo ma sì la gente la lascia ahia quello c'è al potere quello forte è al potere quello là che spara devo provare a cerchinarlo se non è un casino io manco livello no no non quello della palla no c'è un altro c'è un altro qua questo qua questo qua che spara no forse è questo qua 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 si si ma come non lo madonna ok vai ma posso con i scudi ti lascio il lupo e i colpi tutto oddio due contro uno due contro uno vai ti serve qualcosa? no 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 sto messo bene se non prende ok no cosa hai nel ah è questo riposo dai ok vai 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 vediamo dove sta stavolando mi sa occhio perché se c'è quel potere la che spara eccolo là l'ho visto se se sta fermo per sta fermo ecco te l'ho detto ecco aspetta ok eccolo la si sta scappando occhio occhio l'uso adagio volata lancio il fortino accaduto 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 spazzo 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 stoccando ma che faccia è li sto sceso lì sta scendendo pure manca vai è sceso cazzo 80 oh ma c'è quel pompa l'ha maledetto occhio io sono sopra 72 72 oh cazzo no ho 11 di vita si sta curando però si fa cadere vai 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 lo sto tenendo impegnato vai lo sto tenendo impegnato cavolo eh ma è morto cavolo eh ma aveva quelle eh non so occhio occhio ma è morto ma è morto che cazzo ma è morto è morto è morto vai metto preparati che cazzo che cazzo va andare così mo che cazzo mo che cazzo mo sono due due muri ho blattato eh ma perché abbandono ma 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 aspetta un attimo aspetta un attimo io io ho avviato la richiesta che qua giochi decentemente su fall guys fai pena non lo so ma ma ce l'ho già ah ce l'ho già 13 ma 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 mi ha abbandonato ma mi ha abbandonato mi ha abbandonato vabbè ne provo a fare un'altra a coppie era divertente dai ne voglio fare un'altra mi ha abbandonato vabbè mi ha abbandonato ma no ci sono rimasto malissimo mi ha abbandonato ho fatto vero comunque sai che in teoria adesso mi mette solo con italiani solo con italiani la con pappa mi ha abbandonato piango piango guarda i miei lacrime torino cioè mi ha abbandonato sad story sad story sad story abbandonato lo hai un microfono do you have a mic portugal madonna oh cazzo dai mcdyr ma io trovo solo ma io ho trovato un italiano per una volta e e rip e rip proprio dove vuole andare oh io lo seguo io lo seguo cioè mi ha abbandonato solo et pensoso xpablo io lo seguo io lo seguo voglio vedere cosa fa cosa vuol fare cosa vuol fare cosa vuol fare cosa vuol fare che vuol fare che devo fare ma ma vabbè vabbè basta io adesso divento adesso basta tutti mi hanno tradito adesso basta adesso basta si ritorna in solitaria adesso basta pablo mi ha tradito e adesso anche questo hype dragon traditore vi hai tradito vi ha tradito no ma tanto ma scusa in realtà mi sa che ce l'ho ce l'ho tra gli amici in realtà ce l'ho tra gli amici secondo me è baggato ma secondo me ce l'ho tra gli amici secondo me ce l'ho tra gli amici secondo me è baggato perché perché se l'ho mi diceva tra di due pazienza si va in solo adesso si va in solo io sono triste io sono triste oh ha accettato la richiesta oh ma ha accettato la richiesta però mi ha accettato la richiesta mi ha accettato la richiesta robur 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 usso robur usso fortemente non attira è vero lo guyzer tira di più hai ragione fortemente non attira più oh ma mi ha invitato aspetta hype dragon mi ha invitato a questo punto intiamo da due niente da qua mi dovrebbe far abbandonare l'ho mai invitato attenzione abbandoniamo abbandoniamo un attimo un attimo ecco buonasera oh pronto mi senti aspetta buonasera ben 40 rimasti sei morto beccato 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 faccio un po' di grelli vada facciamo un'altra coppia l'ultima 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 io cattiva faccio faccio schifo quindi qua almeno forse ah no io ho una vittoria non ci credo io ho 12 singola ma è impossibile che ho una vittoria o più di un deltaplano ok 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 va guardami faccio va a vedere oh e come hai fatto ah ecco ok va bene ok a te fai live su youtube o qualcosa così a te fai live su a te fai live su ho capito ho capito urla di clipare urla di clipare ok 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 ho clippato da questo a te fai live su a te fai live su a te fai live su ok ok vuoi fare un'altra no ok dai va bene va bene ma comunque si 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 stavo dicendo ma te fai live su youtube eccetera no no ok ma cosa vuoi fare in creativa box fight va bene 1 2 box fight va bene perfetto perfetto io ho un canale youtube se vuoi puoi iscriverti se vuoi si chiama rapallo gaming channel si 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 non me lo trovo va bene va bene vabbè dai andiamo in box fight pazienza ok 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 miglior ballo cambiare il suo padre va bene va bene si deve Ok Ahia Ahia Eh vabbè Ahia Acabo 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 Non vuoi provare Eh E leva la scala Ok Tu tiri il muro e io provo a spascarlo col piccone Dai Eh Non lo so Dove si vede Sopra In alto a sinistra Voi non c'erò No Devi un po' sbagliare l'arma Caccio il pompo per le elementi qua Guarda Sì Diciamo che si arriva a 10 Sì Bella madonna Bella Sì Eh vabbè Sì 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 Oddio Sì 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 Sì, sì. Vabbè, vabbè dai, te l'ho vinta. Che vuoi fare? No, no, io mi sa che vado, guarda che roba. Sto laggando, non posso fare niente praticamente. Ciao. Ciao, alla prossima. Vabbè, io vi ringrazio a tutti per aver visto questa live, noi ci vediamo domani. Ciao. Adola. Grazie.